non è come sembra federozzo guarda che merda stai cercando su youtube ma sai che non lo servevo neanche no animali animali benvenuti in questo nuovo video siamo tornati qua nelle domande in un video veramente figo ma questa volta sono contro un altro youtuber nel caso non voleste vedere un altro scrivetemi nei commenti con quale youtuber farlo e 40.000 mi piace godetevelo tutto perché fa ridere e buona visione sei pronto a prendere le legnate fra ma che cazzo vuoi cazzo ne sai tu di youtube italia buona a tutti ragazzi e ragazze sono animali bentornati in questo minimo video oggi siamo qua in un nuovo episodio di domande nello scorso episodio vi ricordate bene ho fatto io con le domande dei mates quest'oggi siamo con clowns bella ragazzi fa saranno parlare perché sono tipo a tre metri da lui in realtà però eccoci qua quello che faremo oggi appunto è botta risposta siamo contro per appunto giocare invece che con le domande dei mates con le domande di youtube italia ti prende 5 corone vince e vabbè l'altro perde allora tu d'ho visto che il canale è il mio beh inizio io ma come iniziano gli ospiti sa no no ma te abiti qua che ospiti secondo me lo becco subito star centro figurati stupido punto di domanda godo qual è il secondo canale di quei due sul server oltre QDSS2 penso ironiosi la so bravissimo è quello oh hai visto chi è il capo che sa tutto di youtube ma cazzo me la sapevo anch'io questa secondo me sta qua cos'è sto pennarello del cazzo Tina ti indicherà due scatole in una delle quali si nasconde il re qual è il format principale di Marcello Ascani ma non è quello che ha fatto il dromalife è quello che fa le cose sul make up da maschio gameplay non è esperimenti sociali non è rc6 è rc6 di prodotti cosmetici diretti è una merda sei io allora uno ci prova che cazzo uh aspetta che mi sta dicendo dove potrebbe essere tanto non lo becchi tanto lo circo l'ho preso l'ho preso ti voglio bene Tudor ciccio gamer 89 di chi è fratello dai a che cazzo di domande so dread stepney il vostro caro dexter o jogger se ci penso si ma questo era facile no ma no aspetta non ci arriverò mai proviamo jogger oh una corona ma che culo lo sai che adesso lo becco la prima vero? scompettiamo 10 euro? 10 euro si è bugato e ha premuto da solo ma vaffanculo va c'hai da cambiare? che ti serve? due da dieci c'ha uno da dieci c'ha un cinque no bello c'ho solo cinque euro nel portafoglio ma non è vero fammi un'idea due dollari vabbè grazie oh vaffanculo testa di cazzo ti spacco oh non ce li ho vinto i soldi allora fatti chiedere lì vaffanculo fatti chiedere lì no che merda che sei aglia non mi pensiero no sono dieci vabbè vabbè te li do dopo te li do dopo che questa merda vabbè rispondiamo dai quale canale porta la serie mia madre satana i pantellas tu d'ora questa è a buscà eh allora è qua re no ha preso la regina che rottura di scatole è quella che devi rispondere a 5 domande entro 30 secondi chi ha scritto la canzone delirio a me due preziosi no 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 con che canta ho finito di pezza di merda sei via 5 euro ma sei infame che cazzo vuoi non rivedrai più i tuoi 5 euro allora di cosa paura Lorenzo Stuni vale il power up no che power up scarafaggi di nuovo vaffanculo davvero dei ragni così impari mi sono pure preso i tuoi 5 euro rispondi correttamente alle domande e Albert ti indicherà due scatole in una delle due sti a nascondere ah è tipo l'altro ok quanti iscritti aveva raggiunto Lion quando ha fatto lo speciale in cui ha costruito un leone nel server ma io che cazzo ne so ma non guardo manco i video di Surry sarà 300.000 400 ah beh ci sono andato vicino cioè ero convinto che fosse 300.000 i miei contro te sono siciliani napoletani umbri piemontesi umbri umbri si col cazzo umbri o in alto a sinistra o in alto a destra tu cosa mi consigli in basso in alto a sinistra oh ho beccato il re qual è il cognome di in nomina di chi è mio Salem Cinquegrana Burci Corteo dai è il corteo passa la banda è il corteo sta zitto siamo uno pari io riprovo in alto a destra ho ribeccato il re regà ma vabbè ma che culo ho ribeccato il re ma che culo di cosa tratta principalmente Zeta Ulisse 1996 perché lo cerco su youtube no no non si c'è no non si bara io mi butto minecraft ma perché son forte eh non perché l'ho appena vista adesso su qua sul tele ma non si può barare ah si non me lo ricordavo si si vai spero che ti magna il ciclo sei rosica eh 2 a 1 sei rosica eh chi sono i Lel cazzo ne so io domanda tra bocchetto è su una persona oppure che noia Alice Polish Danny Lion e Marci ma non esistono ciao Marci ciao amici non sapevo chi voi eravate in L ah qua c'è un altro punto di domanda questo gioco fa schifo qual è stato il primo video ad essere caricato su youtube Luna Park o no si no sbagliato ma veramente ma il cazzo vabbè qua stiamo andando avanti di punti domanda rispondi correttamente a due domande per continuare mi sta capitando la mer a Milano Stempi con Kiko divide l'appartamento snitex dove abitano i miei contro te in Puglia in Abruzzo in Sicilia beh ma in chiesta adesso a me in Abruzzo ma che cazzo di domanda è oh io continuo e uno ci prova dai ho preso il re che c'è ti prende per il do 2 mi ha fatto la canzone andiamo a comandare Justin Bieber raccametti il cazzo che me ne frega è rovazzo rovazzo chi è che deve sta mudo mo si ma le domande sono semplicissime ok nuova nuova domanda ti puoi fidere di me per una volta rispondi a questa come si chiama camper del canale i noob channel nei videogiochi Federico e non è spawn ma è i camper i noob camper i n camper Federico o i Federico i n camper forse oh giusto ma Federico cosa che non c'è tra le opzioni allora forse è qua basta con sta sacca di piscio oh però ti puoi fidare di me almeno stavolta si si chi riinterpreta a modo suo il late show di david letterman questa la so dai dimmela io tovi grazie non la sapevi ma si che la sapevo ah beh però perché pensavo che mi sparassi le cagate chi mette una banana danzante a fine video scott ex anima gabby 16 bit o dread e indovina cosa ho preso adesso la seconda corona una terza bello di già però capisci si chi ti sta aiutando adesso ah bello senti che hai a bocca larga è un complimento questo si si perché dal fango nascono i merda cioè scusami dal fango nascono le rose con chi collabora spesso marcello ascani il signor franz ciccio gamer greta menchi dread beh con niente pezzo di merda mi è venuto a sbagliare godo senza secco di merda quale tra questi youtuber non si occupa di gameplay velox io sono otta kuman professor live o stepney stepney come stepney fidati a rosa professor live che culo numero uno ragazzi chi sono i carenzi questi tre eh che culo dai chi ha avviato la rubrica le stranezze di clash of clans tra federonzo tfc on demand oppure iachidale boh penso la cipolla no zio stai in to no no ti sento pezzo di merda non è come sembra federonzo no ah 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 guarda che merda stai cercando su youtube ah 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 sei a sacco di merda intanto ho vinto no sentivo il ticchettino della tastiera come si chiama il ragazzo di news dal tubo simone domenico ambrogio luca mi dai una mano tu ah sarà ambrogio si col cazzo col cazzo l'ho trovato il re quali tra questi youtuber non sono imparentati ooooh indovina un po boom oh l'uomo re veramente no sul canale ormai abbandonato game cast sono stati gli youtuber che hanno la so si si la so anch'io grazie lo so che era in cui credo sul server i the show che genere di video fanno vabbè sui tutorial infatti visto ho indovinato sarà di qua allora il re no che ho beccato il ninja quali youtuber ha scritto una canzone intitolata andiamo a comandare no no andiamo a comandare romassi ah indovinato 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 ok poi no no non cazzo devi dole cinque euro non mi romperai il cazzo tu vuoi vincere voglio vincere non mi rompere il cazzo to' vincere i messi dei coglioni ahahahah vado a vedere ci dormo c'hai paura eh si si c'è quella in espole il posto dei coglioni attenzione comunque siamo qua tra due non me ne ero accorto intanto i 120 euro come si chiama il gruppo formato da lone gamer sp jockey e redbox sarà questo cazzo ma si vabbè dark luke che videogioco ama cerchiamolo basta provo con counter strike no a mettere glizzone non lo sapevo come si chiama realmente iron blaze perchè ne so eh lo cerchiamo basta marco no l'ho toppato no no so che viene è giusto è giusto questo qui è round decisivo quindi se vinci hai vinto e vinci anche i 20 euro sono i miei sono i miei tutor di 20 euro rispondi correttamente alla domanda e tito ti indicherà due scatole in una dei quali se ne affonderò che è stormy oltre ad essere uno youtuber fai te lo dico testa di cazzo no è vero perché avevo lo stesso cognome ma sai che non lo servevo neanche beccato il re no non ho preso il re non l'ho preso quale youtuber ha una rubrica intitolata l'invidia del pene boh sarà frafrog no non lo sapevo beh intanto non ho beccato il re questa qui ho beccato il re allora quale youtuber chiama i suoi iscritti bimbi il suo canale asilo e si autoproclama il re delle banane è difficile questa davvero beh si molto difficile 4 a 3 comincia la rimonta anzi se vinco in qualche 20 euro ma cosa chi fa le cover musicali Decarli Decarli qual è stata la peggior figuraccio di Klaus ma regà non lo so neanche io sarà quella dei pinguini dello zoo si ah ok come si chiama la finanziata di Stephanie Marina ma regà andiamo sparati eh da chi è composto il canale TFG on demand lo so io lo so io da chi Taylor e Rinegar ma no Taylor e si Taylor Taylor ok Taylor e Rinegar no 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 Taylor e Taylor mentre gioca a batman sciogamer come gli piace chiamarsi Bacciccio eh eh ma è un beccato il re regà eh 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 qual è fu il primo youtube italiano a fare un video insieme a chi è sai è Johnny Creek si ah è vero è Johnny Creek no ma è un beccato il re regà l'ultima domanda è una domanda in realtà molto difficile cazzo si immagino la sabre gamer e anima sono moglie e marito fidanzati cugini oppure marito e moglie cugini magari non è giornata fidanzati cugini hai vinto non hai vinto certo che ho vinto vaga sta cazzo di penitenza qual è la penitenza? ti do i 20 euro interi no va bene male male questo video può concludersi qua se volete un altro video sulle domande questa applicazione magari la prossima volta con i mails o con qualche altro youtuber supermi 40.000 mi piace come sempre qua sopra trovate la scheda del cellulario o il riquadrino per vedere un altro video noi ci siamo beccati domani con un nuovo video stay angry stay animals ciao